Io lotto contro la violenza di ogni genere. Io lotto contro le disparità e le disuguaglianze sociali. Io lotto contro chi prevarica e chi inibisce le libertà personali delle donne. Io lotto sempre. L'iniziativa Io lotto è giunta alla conclusione del primo ciclo annuale di minispot contro la violenza sulle donne. Come assessora alle pari opportunità del Comune di Napoli ho creduto fortemente in questa iniziativa e sono orgogliosa di come si sia evoluta mese dopo mese. Acquisire consapevolezza della violenza fisica e psicologica è necessario oggi più che mai per prevenire maltrattamenti e violenze gradi ai danni delle donne più deboli, quelle che non hanno ancora trovato il coraggio di parlare. I centri di ascolto e antiviolenza sono nati per essere un aiuto concreto per tutte voi. Un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che hanno collaborato per rendere vivo e attivo questo progetto. Il Comune di Napoli, Italia SRL, Alicam SRL, Scuola di Cinema di Napoli e tutti i testimonial che hanno prestato corpo e voce alle donne vittime di violenza. Grazie. Fate ascoltare, chiama il 1522 o scrivici in chat. Grazie.